Oggi ragazzi intro veramente veloce, guardate siamo nell'hotel nuovo, ci troviamo a Breno in provincia di Brescia, oggi voletto sul castello di Breno e col drone ovviamente e non mi dilungo di più, non ho fatto assolutamente nessuna intro, oggi vi lascio un video col drone puro e libero intanto faccio un breve room tour, neanche un giro dalla stanza, molto carino però non posso neanche farvi vedere la parte esterna perché ovviamente è sera però ci sarebbero le montagne, poi vabbè letti, specchi, roba varia, tv e niente poi vabbè qua c'è il bagno, scherzavo, qua c'è il bagno, ecco qua, lì c'è una bellissima persona allo specchio e niente questo è il bagno, c'è la batteria del drone che si sta ricaricando nel frattempo e niente vi lascio al video grazie a tutti 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 grazie a tutti